Un posto al sole Un posto al sole Trame 19 e 23 marzo, Anita fa una scoperta scioccante, ecco quale Nuovo spazio dedicato a Un posto al sole, il popolare sceneggiato ambientato a Napoli. Le vicende della serie, incentrate principalmente sugli abitanti di Palazzo Palladini, ci riserveranno dei nuovi colpi di scena. Oltre alla partenza di un personaggio molto amato, ci saranno anche molti contrasti e fraintendimenti. Ma cosa accadrà negli appuntamenti inediti che verranno trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 alle 20 e 40 su Rai3?. Per conoscere le trame complete vi consigliamo di leggere lintero articolo. Anticipazioni Upass, puntate dal 19 al 21 marzo. Raffaele, dopo la prematura partenza di Diego, sarà giù di morale, ma grazie ai suoi amici riuscirà a distrarsi un po'. Nel frattempo la vita di Anita verrà sconvolta da una notizia incredibile, scoprirà di essere la figlia di Luca Grimaldi. Questultimo cercherà aiuto a Vittorio. Intanto, nei cantieri Paiadini ci saranno alcuni problemi, Sandro, appoggiato da Alberto, chiederà ai dirigenti di avere un ruolo di maggior rilievo. Con questa decisione, il ragazzo metterà in difficoltà la Dark Lady Marina e nello stesso tempo farà arrabbiare il padre. Silvia intanto, scoprirà di che pasta è fatto leditorialista Roversy, a quanto pare questultimo non è luomo cordiale che vuol fare credere a tutti. La donna amareggiata e delusa del datore di lavoro, troverà un sostegno inaspettato da parte di Arianna. Inizialmente il nuovo impiego di Elena sembrava andare alla grande, ma col passare dei giorni è cambiato qualcosa. Enriquez la metterà in grossa difficoltà facendola entrare nel panico. Un posto al sole, spoiler puntate del 22 e 23 marzo. . Anita, dopo aver scoperto che Luca Grimaldi è suo padre, cercherà in tutti i modi di cancellarlo dalla sua vita. Ma in che modo? La ragazza si allontanerà per rifletterà e sfogherà tutta la sua rabbia insultando luomo che la messa al mondo. . Nel frattempo la storia damore tra Nico e Susanna va alla grande. Il figlio di Renato però, farà una proposta particolare alla sua giovane fidanzata, andare a convivere insieme. . La vocatessa Piccardi accetterà?. Franco dopo un periodo di stasi, deciderà di riprendere gli allenamenti recandosi di nuovo in palestra. Lì luomo scoprirà un giovanissime pugile molto interessante. . Quali saranno le sue intenzioni? Per ulteriori anticipazioni sulla serie napoletana di Rai 3, continuate a seguire il canale Un posto al sole qui su. .